per la bastagna 2k 18 se non ti fanno passare passiamo lo stesso noi ma mamma mia ma sei zitto l'avigatore di me è un po sporchino per terra bene allora siamo qui a rossano rossano veneto pronti a carichi per andare a fare la bastagna dov'è che si trova esattamente la bastagna per l'information grazie invento bene io sono chittato di casco da cross rosso e nero con la gopro però sono sopra al mio cr abbiamo preso in presto lo scooter perché sennò io fondo tutto prima di arrivare alla bastagna abbiamo in compagnia sempre lui pronto e carico aveva intanto noi ci facciamo tutte quante la statale che ci porta alla bastagna e ci risentiamo appena siamo pronti e carichi per la bastagna 2k 18 se non ti fanno passare passiamo lo stesso noi bene non siamo neanche partiti e che ci siamo già fermati e hanno chiuso la strada perché fa un tipo le corse non so che fatto sta che non si passa quindi dobbiamo fare un'altra strada per andare ad asiago ma quindi la chiusa completamente ok allora io ho fatto tutta la statale che si accompagna ad eneco ora siamo nella salita appunto di eneco sperando di non continuare appunto quelli di prima perché se no mi tocca riscendere da qua io voglio farmi due tornantini guarda qua mamma grazie a tutti Grazie a tutti Ora vediamo un attimo cosa fare Vediamo se prenderci un caffè qua ad Enego Comunque vediamo un attimo di farci un giretto qui Troviamo un punto dove fermarci due secondi E riprenderò ovviamente dopo Ok allora abbiamo deciso di andare verso Fozza Per vedere se possiamo mangiare una bruschetta Il centro di Enego Il centro di Enego Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Quanto piega E' un po' sporchino per terra Adesso lo raggiungo No 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 bene allora siamo praticamente nei tornanti che partono per andare a casteltesino avevo fatto tutte le provinciali e porcate varie siamo scegli perenne con come siamo saliti prima avete visto perché praticamente era ancora chiusa la strada e non si poteva fare a valstagna fino alle 5 perché stavamo facendo le gare di rally praticamente quindi ora saliamo per appunto si tornanti per andare a casteltesino la batteria ce l'ho al 26 per cento quindi probabilmente arriverà su e si spegnerà però intanto godetevi ecco queste curve che sono spettacolari anche queste a 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